Buongiorno e bentornati. Bentornati a una nuova puntata di Ho ragione, avvocato. Gian Mario Bastetti. Antonio Costavarberto. Eccoci qua. Allora, l'argomento di oggi, il mio, che fa l'onore di farmi partire per prima, è la messa alla prova, siamo nel campo del diritto penale, contenuta nella opposizione a decreto penale. Chiariremo i concetti dell'uno e dell'altro e quali sono le problematiche. L'avvocato Bastetti ci parlerà. Io parlerò del pignoramento di una quota di proprietà, di comproprietà. Ah beh, interessante. Proprietà indivisa. Proprietà indivisa. Dunque, un fogliettino degli appunti che però ho preso rigorosamente io per non esondare. Sì, sì, ecco. Vediamo un po'. Che cos'è la sospensione del processo con la messa alla prova? Già questo concetto era entrato nell'ambito del diritto minorile, da qualche anno, dal 2014, anche nel campo del diritto per i maggiorenni, per gli adulti. La legge del 28 aprile 2014 ed è una modalità alternativa, cioè la legge introduce una modalità alternativa di definizione del procedimento penale, attivabile fin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile, e questo è importante, pervenire a una pronuncia di estinzione del reato. E questo è quello per cui noi oggi trattiamo di questo argomento, laddove ovviamente il periodo di messa alla prova sia stato fatto regolarmente in presenza di determinati presupposti e quindi si concluda con esito positivo. Vedremo poi velocemente qual è il presupposto più importante della messa alla prova, che sono i lavori di pubblica utilità. Quindi, intanto ci vuole un reato che deve essere punito con pena pecuniaria, quindi non proprio reati grandissimi, con pena massima detentiva però fino a, paf, quattro anni, quindi insomma c'è già un salto, e deve essere di competenza del tribunale monocratico, cioè a un unico giudice. Però la condicio sine qua non dell'ammissione alla messa alla prova è proprio costituita dal lavoro di pubblica utilità, cioè una prestazione non retribuita in favore della collettività, dei comuni, delle associazioni, enti e organizzazioni di assistenza sociale, di sanitaria e volontariato. Il decreto penale che cos'è? Anche qua un procedimento speciale, ma esisterà già dai tempi, insomma, il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento, cioè di saltare il processo tanto per di non. È disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, quando quest'ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria, anche se questa pena pecuniaria deriva da una pena detentiva convertita in pena pecuniaria. Però l'imputato potrebbe anche dire, vabbè, allora, il decreto penale, caso tipico, guida in stato di ebrezza e viene applicato spessissimo il decreto penale, quindi è molto ricorrente. L'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale entro 15 giorni e in un caso, quando, per esempio, facciamo l'esempio concreto, nella situazione di guida in stato di ebrezza, avendo provocato un incidente, i lavori di pubblica utilità non sono concedibili, semplici. Allora, poi, con questa nuova legge della messa alla prova, il cui fulcro è comunque il lavoro di pubblica utilità, anche se ci vuole un programma predisposto dal lente apposito che si chiama UEPE, eccetera, sostanzialmente consente di bypassare un po' il discorso della opposizione senza poter utilizzare i lavori di pubblica utilità. Chiediamola messa alla prova. Lo so, sono cose procedurali, anche perché il legislatore legifera anno dopo anno, quindi si sovrappongono, però bisogna farlo con l'opposizione al decreto penale, che va fatta nei 15 giorni dalla notifica. E allora la dichiarazione può essere presentata nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, il famoso GIP, che ha emesso il decreto. Con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso decreto di condanna, cioè quel decreto penale, un giudizio immediato o un giudizio abbreviato o il patteggiamento. E poi il problema è, ma la messa alla prova, che pure si può chiedere, perché è prevista da una modifica normativa nelle norme del decreto penale, a quale giudice la chiediamo? Al GIP, come in questi casi, o al tribunale, al giudice del dibattimento. Non è una questione senza importanza, perché un conto è chiedere al GIP, lo stesso giudice che ha emesso il decreto penale, ed è una udienza che poi si tiene in camera di consiglio, un'udienza camerale. Il dibattimento vuol dire invece andare molto più in là, come tempi, anche come costi, se vogliamo, no? E poi diventa tutto un meccanismo. Ebbene, la Cassazione ha dovuto decidere questo problema, competente il GIP per la messa alla prova o competente il giudice del dibattimento. E che cosa è successo? La Cassazione penale, sezione prima del 2016, la 25867, ha affermato che fosse competente il giudice del dibattimento, con un ragionamento abbastanza illogico, perché l'anno dopo la Cassazione penale, stessa sezione, sezione prima, 4 maggio 2017, numero 21, 3, 2, 4, al contrario, afferma che è competente il GIP, cioè il giudice che ha emesso il decreto, non il giudice del dibattimento. Ma perché? Perché infila la messa alla prova in quell'altro ambito dei giudizi abbreviati, applicazione della pena. E' curioso che è la stessa sezione di Cassazione. Sì, a un anno di distanza. Sì, sì, a un anno dopo. Comunque, è molto più logico questo discorso, perché il legislatore purtroppo quando legifera, si dimentica alcune volte dei tassellini che vanno a... E quindi, devo dire appunto che Novara segue questo ultimo orientamento. Due giudici che sono stati ospiti qui di... Ho ragione avvocato, la dottoressa Mongiardo e il dottor Guerrerio, applicano quindi la seconda Cassazione, che è anche la più logica. Però vi devo confessare una cosa. Io ho fatto più di appunto due anni fa una opposizione a decreto penale per un'assistita e avevo scritto, basandomi sulla precedente Cassazione, dico, chiedo che sia il giudice del dibattimento a decidere. Fortunatamente, devo dire, che i GIP di Novara, del nostro tribunale, hanno bypassato questa frase, l'hanno un po' interlineata, seguendo il più logico criterio dettato dalla Cassazione numero due. Sì, però lei ha seguito un'interpretazione di Cassazione, quella più... Allora, come vedete, tot capita, tot sentenze, che tradotto da un vecchio apprezzatissimo avvocato, che era l'avvocato Melone, l'avvocato Francesco Melone, tutto capita nelle sentenze. Che non è proprio letterale, però rende l'idea. Vabbè. Allora, passerei all'argomento, al mio argomento di oggi, che è appunto il pignoramento della quota di comproprietà, una quota di proprietà indivisa. Un po' la domanda che, se vogliamo un po' girare, un po' la domanda che ci dobbiamo porre è questa. Allora, se noi siamo comproprietari, insieme ad altre persone, di un bene, ad esempio un bene immobile, ma anche altri beni, un conto corrente o qualcosa, e nel caso in cui un altro comproprietario ha un debito, il creditore intende fare pignoramento perché lui non riesce a pagare questo debito, noi che non c'entriamo nulla con questo debito, possiamo stare tranquilli? E questa cosa, un po' come la Cassazione, dipende, dipende e andiamo a vedere quando, perché non c'è mai alcune volte una risposta chiara. Allora, intanto mi metto gli occhiali per leggere appunto gli appunti che ho preso. Intanto partiamo dall'idea che la legge ammette appunto il pignoramento della quota di proprietà, anche se questo può avere ripercussione nei confronti degli altri proprietari. Che non c'entrano. Che non c'entrano nulla. L'articolo che si occupa di questo è l'articolo 599 del codice di procedura civile. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore, è chiarissimo. Non serve un'interpretazione in questo caso di Cassazione. In tal caso del pignoramento è notificato avviso a cura del creditore pignorante anche agli altri comproprietari. Cioè gli altri comproprietari devono essere avvisati, lo prevede il legislatore. Certo. Al quale è fatto di vieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Per cui questi devono imporre al debitore che non può dividere il bene, non può fare una domanda di divisione del bene. Ok. Intanto, allora, la prima cosa che si può dire è che queste ripercussioni che abbiamo detto nei confronti nostri che non abbiamo questo debito non ce ne sono nel momento in cui il bene è facilmente separabile. Stiamo parlando, ad esempio, di un conto corrente dove il denaro ovviamente c'è una certa somma. ci sono 10.000 euro sul conto corrente e sono con proprietario, cointestatario in questo caso di questo conto con un'altra persona, va bene. Sarà pignorato con la presunzione la metà, 50%, perché nei conti correnti, per quanto riguarda il pignoramento dei conti correnti c'è questa presunzione di legge che se sono cointestati il 50% a due persone, il 50% a una, il 50% a una. Ci può essere sempre la prova contraria, perché ci può essere la prova, facciamo ad esempio il caso, non so, del nonno che cointesta il nipote, il conto corrente, proprio per facilitare il nipote andare a prelevare per conto suo, in questo caso i proventi però del conto sono tutti del nonno, oppure il caso in cui, non so, siamo in presenza di un imprenditore che fa confluire i soldi in un conto corrente, ma lo cointesta la moglie al 50% di modo che non possa essere pignorata la sua quota, cioè o meglio la totalità del conto, ma solo la sua quota. In questo caso il creditore può dimostrare che i proventi che ci sono sul conto corrente arrivano soltanto dal debitore, questo va bene. Allora, abbiamo detto che non ci sono ripercussioni nei confronti dei comproprietari, nel caso in cui questi beni sono divisibili, ma si sta parlando ad esempio di una villetta dove ci sono più appartamenti, tre appartamenti di par valore, intestati a tre proprietari, però in questo caso è facile la divisione da parte del giudice. Il problema, quando è che salta fuori? Il problema salta fuori nel momento in cui l'immobile, ad esempio un piccolo appartamento, non è divisibile, non è facilmente divisibile. In questo caso anche il comproprietario che non ha il debito nei confronti, che non c'entra nulla con questo debito, suo malgrado è costretto a subire la vendita forzata, la vendita coattiva. In questo caso per rimanere proprietario del bene l'unica cosa è poter partecipare all'asta, partecipare all'asta e acquisire, in base alla giudicazione dell'asta, la quota del comproprietario debitore in questo caso. Ecco, diciamo che se, come abbiamo detto, parlando di un immobile, l'immobile non è facilmente divisibile, allora il giudice sospende il processo di esecuzione e procede con le regole generali della divisione dettate dal codice civile. La divisione però è lunghissima. La divisione è lunghissima. Ecco, vediamo un po', ho fatto uno schema dei vari passi, cioè, allora, per arrivare poi alla vendita coattiva, che cosa fa il giudice? In un processo di divisione che, abbiamo detto, è lunghissimo, intanto all'inizio tenta di fare un accordo tra le parti, cioè di vedere se c'è un proprietario che vuole acquisire la quota dell'altro. Poi, se non c'è possibilità di trovare un accordo, a questo punto deve valutare, dando incarico a un perito, se l'immobile è divisibile, per cui darà un incarico a un perito, normalmente un teneco, un geometro, un ingegnere, e il quale valuterà se c'è la possibilità di proporre delle quote in comproprietà. Qui siamo quasi in scadenza. Però, è breve, allora, nel caso in cui non è possibile appunto la divisione, a questo punto propone agli altri di acquistare la quota agli altri comproprietari, e in questo caso deve vedere se ci sono più comproprietari, deve tutelare quello più meritevole, ad esempio, non so, la moglie che è comproprietaria, che è mancato magari il marito, ma abita l'immobile, per cui deve preferire quello, per arrivare poi addirittura al sorteggio, se ci sono vari comproprietari che vogliono aggiudicarsi questa quota. In mancanza di offerenti tra i comproprietari, in mancanza di altre soluzioni, si arriva appunto alla vendita coattiva. E questo è un po' quello, vendita coattiva, che praticamente anche il comproprietario non debitore deve subire alla fine, perché il bene immobile, se non ha intenzione lui di partecipare all'asta o di acquisire la quota, verrà venduto a terzi, all'asta e lui verrà soddisfatto, in base alle risultanze dell'asta, per la propria quota. Per cui non è proprio così, io non sono debitore, posso fregarmene del fatto che l'altro comproprietario ha dei debiti. Alcune volte si viene toccati anche senza colpa, di chiamiamola. E senza colpe noi concludiamo, se abbiamo sforato di mezzo minuto un minuto, e vi ringraziamo per l'ascolto, e vediamo appuntamento alla prossima puntata di Ho ragione avvocato. Arrivederci a tutti, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.